Di sicurezza bis e famiglia dopo le europee. L'occulta regia del capo dello Stato che ieri ha ricevuto Conte Stalvini e questa mattina potrebbe essere stata la volta anche di Di Maio, ma mancano conferme, ha di fatto sminato il campo dal muro contro muro. Lega 5 Stelle. Abbiamo convenuto di svolgere il prossimo Consiglio dei Ministri il primo giorno utile della settimana prossima. Rinviato alla prossima settimana il decreto sicurezza bis, il carroccio rilancia la flat tax, mentre i 5 Stelle che cedono sul decreto famiglia che diventa di segno di legge bocciano la proposta leghista di abolire il reato di abuso di Ufficio e Di Maio. Attacca di nuovo. Se la Lega vuole sfiduciare Conte, lo dica apertamente. Staccare la spina al governo lo chiede ancora Berlusconi, mentre Renzi attacca Conte. Abbiamo a che fare con un Presidente del Consiglio che è la somma, la somma di tutte le incompetenze. Tra tre giorni dunque il voto, un vero e proprio election day, poiché oltre al rinno del Parlamento europeo, si vota anche per un turno di amministrative dal forte valore politico. Regione Piemonte, circa 3.800 comuni, 30 capoluoghi, tra i quali Firenze, Perugia, Parma, Campobasso e Bari.